Musica Etg più Today, buongiorno e buon inizio di settimana. Anche oggi i fatti del giorno, partiamo da lì, partiamo dalla guerra che è ormai arrivata al quarantesimo giorno e ha nuovamente sconvolto il mondo intero con le immagini che sono arrivate e che abbiamo visto tutti in queste ore da Buccia, soborgo a 37 chilometri da Kiev, scene tremende con decine di cadaveri per strada e tra poco andremo ad approfondire cercando anche di capire in queste ore che cosa accadrà. Ci sono ovviamente le trattative diplomatiche che vanno avanti, si parla ancora di nuove sanzioni nei confronti della Russia e poi c'è questa comunicazione anche della Russia proprio riguardo alle immagini che sono arrivate e che abbiamo visto tutti da Buccia. E poi ancora ci occuperemo anche di economia perché affrontiamo sempre anche il tema delle ricadute della guerra ma anche più in generale della situazione rispetto a due anni di crisi, a due anni difficili che abbiamo alle spalle e andremo ad approfondire avvalendoci dei nostri siti, in questo caso di un articolo del Corriere della Sera, pagine di economia, sul caro prezzi con i rincari che evidentemente abbiamo potuto constatare tutti semplicemente andando a fare la spesa nelle ultime settimane. E poi vi dico anche che per quanto riguarda il conflitto tra poco avremo un collegamento direttamente con Odessa, andremo a collegarci nuovamente con Ugo Poletti che è il direttore di Odessa Journal e che ovviamente ci può raccontare che cosa sta avvenendo in queste ore perché se fino a qualche giorno fa sembrava che addirittura le truppe russe stessero facendo un passo indietro, ecco, ieri lo abbiamo letto, lo abbiamo visto, non è stato così, addirittura c'è stato un ulteriore attacco a questa città portuale nel sud del paese che è affacciata sul Mar Negro ed è considerata ovviamente strategica per la sua posizione. Nuovi attacchi ed è stata anche presa di mira una centrale, tra poco ne parleremo, subito però vedo collegata da Milano Caterina Zita perché questa mattina si trova appunto a Milano, con lei parleremo di pace ma anche di altri argomenti in primis il futuro e il futuro che passa da una mobilità anche sostenibile. Caterina, a te buongiorno. Esatto, buongiorno Michela, noi siamo con il viceministro Alessandro Morelli alle infrastrutture alla mobilità sostenibile ma anche con la delega alle Olimpiadi di Cortina 2026. Noi iniziamo con lei a farle quindi una domanda, non tanto di che cosa si parlerà oggi ma come si fa a parlare oggi di mobilità sostenibile, di futuro, di ripartenza perché sappiamo che Direzione Nord l'evento quest'anno parla anche di dignità e di pace quindi si deve unire un po' la crisi umanitaria, la guerra e il conflitto al futuro del nostro paese, della Lombardia, di Milano insomma. Lei poi è milanese quindi ha diciamo anche un occhio molto vicino a questa città. Ma indubbiamente il periodo drammatico che abbiamo superato, cioè l'emergenza sanitaria oggi fa il paio con l'emergenza bellica e quindi la crisi economica adesso legata. Le Olimpiadi saranno una delle opportunità che la Lombardia, il Veneto, il nostro paese e tutto potrà avere per rilanciare un vero e proprio biglietto da visita e queste saranno delle Olimpiadi assolutamente innovative perché da un certo punto di vista ci sono le infrastrutture, quelle fisiche alle quali siamo assolutamente abituati e quindi io penso alla Statale 36 e ai miglioramenti che verranno effettuati proprio in quella Statale e la Statale 38 dove attraverso delle tangenziali tirano sondro per prime insomma migliorare il percorso viabile per le capitali dello sci che noi creeremo le nuove capitali dello sci perché Livigno e Cortina cambieranno volto in positivo. Dall'altra parte evidentemente ci saranno attraverso questo nuovo modello olimpico una maggiore digitalizzazione e questo permetterà a miliardi di persone di essere connesse alle Olimpiadi e dall'altra parte veramente delle Olimpiadi aperte alla disabilità perché se i giochi parolimpici vengono sempre considerati sono quasi lasciati in un secondo piano. Ecco, le nostre Olimpiadi saranno Olimpiadi inclusive anche da quel punto di vista. Quindi saranno un banco di prova sia per la pace che per la ripartenza del nostro Paese. Ripartenza, ripartenza, ripartenza e lavoro. Grazie, la ringrazio e allora lasciamo il Vice Ministro alla conferenza. Grazie. Allora Caterina da te torniamo più tardi perché so che appunto il parterre di ospiti che partecipa questa mattina all'evento organizzato alla Fondazione Stelline è davvero ampio abbiamo già parlato appunto con il Vice Ministro, tu richiedici la linea insomma appena avrai qualcun altro con te. Stavamo appunto parlando di conflitto, stavamo parlando di Odessa, dicevamo che appunto c'è stato un attacco alla raffineria, nuovi bombardamenti su questa città del sud che affaccia sul Mar Nero. Tra poco andremo a collegarci con il nostro ospite per capire in questi momenti che cosa sta accadendo e che evoluzione potrà prendere a questo punto il conflitto proprio perché bisogna capire se si sta entrando in un'altra fase della guerra e eventualmente appunto come si potrà procedere anche per i civili che sono rimasti in Ucraina. Allora come sempre facciamo andiamo a partire dal Corriere della Sera, entriamo nell'articolo in aggiornamento con tutte le notizie del giorno, riepiloghiamo appunto quanto sta accadendo. La guerra in Ucraina, lo dicevamo, è al quarantesimo giorno e ha nuovamente appunto sconvolto il mondo intero con le immagini arrivate da Buccia che è un soborgo a 37 chilometri da Kiev con scene di decine di cadaveri, di civili. Abbandonati per strada. La società di immagini satellitari Maxara ha pubblicato l'immagine anche di una fossa comune accanto ad una chiesa. Il sindaco di Kiev ha denunciato i crimini commessi a Buccia, è un massacro di civili, non credete ai russi perché stanno continuando a dire menzogne riferendosi ai tentativi di Mosca, di derubricare le immagini dei morti in strada che hanno fatto il giro del mondo e hanno parlato appunto di una provocazione per far saltare i negoziati. Nel canto suo il premier ucraino Zelensky ha anticipato che i crimini di guerra compiuti dai russi a Buccia saranno oggetto del dibattito del Consiglio di Sicurezza dell'ONU già nella giornata di martedì e i responsabili meritano solo la morte, dice Zelensky, come è stato documentato anche in queste ore dai corrispondenti di guerra. Il ministro Di Maio in Italia ha detto che forniremo le prove per punire i crimini di guerra e annuncia un nuovo pacchetto di sanzioni. Evidentemente è intervenuto anche il papà Francesco, si è detto disponibile ad andare a Kiev laddove ce ne fossero ovviamente le condizioni. Allora per riepilogare anche gli ultimi aggiornamenti, quelli di questa mattina a partire insomma dalle 9.30 dalle parole anche del presidente Mattarella che nella giornata internazionale dell'ONU per l'azione contro le mine e gli ordini bellici inesplosi condanna la guerra. Ogni guerra è disumana, ha detto Mattarella. Nelle guerre si possono assumere decisioni tanto crudelli da travalicare ogni limite di orrore. Disseminare il terreno di mine antivuome, usare ordini speciali che hanno come scopo terrorizzare la popolazione e provocare stragi di cittadini inermi è una di queste e costituisce un crimine contro l'umanità che si aggiunge alle responsabilità del conflitto. Queste ancora le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che poi ha aggiunto la giornata internazionale per l'azione contro le mine e gli ordini bellici inesplosi indetta dalle Nazioni Unite. È un'occasione preziosa per sensibilizzare i cittadini e le comunità contro la fabbricazione e l'uso di questi strumenti di morte particolarmente odiosi e suddoli, dice ancora Mattarella, e adoperati tuttavia nonostante siano banditi da convenzioni e trattati. Queste ovviamente le parole del presidente che si inseriscono in un clima molto molto teso che è quello di queste ore. E poi ancora andiamo avanti, leggiamo qualche altro aggiornamento, dicevamo poco fa anche delle parole del presidente dell'Ucraina Zelensky, nonostante le atrocità continuano i negoziati, è difficile dire come dopo tutto quello che è stato fatto possiamo avere qualsiasi tipo di negoziato con la Russia, questo è a livello personale, ma come presidente devo farlo, ogni guerra deve finire, sono le parole appunto del presidente Zelensky che ha affermato che si impegna a continuare i colloqui di pace con la Russia nonostante appunto le atrocità che sono state documentate in queste ore. Torno a Milano da Caterina Zita. Sì Michela, con noi Piercarla del Piano, buongiorno, presidente della Fondazione Stelline. Noi abbiamo iniziato a parlare col viceministro Morelli e lo abbiamo fatto entrando subito nel merito della questione. Abbiamo parlato di Olimpiadi, di ripartenza, di infrastrutture, però lo abbiamo detto a direzione Nord. Oggi si parla di tanti temi che vanno appunto dalle infrastrutture alla mobilità sostenibile, poi la ripartenza, l'economia, le Olimpiadi, ma anche la pace e la dignità che si legge appunto sulla locandina. Come si fanno ad unire tutti questi temi anche così diversi in un momento anche così difficile per il mondo? Allora, la scelta delle parole chiave con cui oggi abbiamo voluto aprire la quindicesima edizione di IDN non è casuale, anzi è molto contestuale. Le abbiamo mutuate dal discorso di insediamento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e direi che mai come oggi sono così sentite, almeno da tutti, e così azzeccate per la scelta di un panel complesso, di un format complesso, scusate, che incrocia parecchi panel durante la giornata. Noi chiuderemo questa sera alle ore 21 e abbiamo sul tavolo davvero molti argomenti, ma le nostre due parole guida sono queste, pace e dignità. Direi che su questo percorso sicuramente il tema che forse ci sta più a cuore è quello dell'accoglienza. Ecco, vediamo nell'accoglienza una spettacolare sintesi direi tra questi due concetti di pace e dignità. L'accoglienza oggi sicuramente ha un posto d'onore nel nostro cuore, prima di tutto, ma soprattutto come azione, come una delle azioni con cui possiamo forse più efficacemente contrastare l'orrore della guerra. Quindi sicuramente molti sono gli argomenti, ma direi che una parte molto importante spetta a questa iniziativa legata all'accoglienza. Partiremo, lo avrà già detto sicuramente, il viceministro Morelli con lo sport, che è un'arma di pace fantastica. Perché se le posso dire le Olimpiadi, le ultime quantomeno sono state l'ultimo ricordo, momento di pace anche a livello internazionale, mondiale. Quindi queste nuove Olimpiadi, questi nuovi giochi che vedranno soprattutto Milano-Cortina, quindi come soggetto principale, saranno un nuovo momento di pace, si spera. È anche questo uno dei temi, no? Assolutamente sì e lavoreremo perché lo siano. Sicuramente anche come Fondazione Stelline noi auspichiamo di poter fare la nostra parte e di partecipare a questa che sarà un'iniziativa, l'epilogo di un percorso più che altro di preparazione e che dobbiamo fare proprio con la pace nel cuore. Mi faccio a dire questo. Io allora le faccio un'ultimissima domanda perché la sostenibilità è uno dei temi che ovviamente riguarderà l'Italia e i paesi dell'Unione Europea, non solo per i prossimi anni, si guarda l'agenda 2030-2050, quindi insomma la sostenibilità è una caratteristica imprescindibile anche dei giochi. Assolutamente sì. La sostenibilità è il passaggio successivo rispetto a quello che abbiamo approfondito con la resilienza. È un concetto che ha intrinsecamente una positività in più, mentre la resilienza è una forma di resistenza, qualche cosa che ci aiuta a resistere. La sostenibilità invece è un'azione forte che ci aiuta ad uscire con un concetto intrinseco anche di cura. La sostenibilità ha come concetto in sé anche il tema della cura, del prendersi cura di, della protezione. E direi che questi sono tutti i concetti che lessicalmente ci aiutano molto a costruire uno storytelling, a noi ovviamente che ci occupiamo della comunicazione, per aiutare tutto questo processo. Quindi sostenibilità come cura, come cura del nostro pianeta anzitutto, ma come messa in campo ogni giorno di azioni che ci aiutino a proteggere e a tutelare e a curare. Direi questa potrebbe essere la nuova declinazione. Che è un auspicio e quindi anche una direzione. Allora su questo noi, Michela, vi restituiamo la linea. Ringraziamo la Presidente della Fondazione delle Stelline del Piano. Grazie a voi, grazie e grazie ai telespettatori. A tra poco e buon lavoro. Intanto ansa.it aggiorna ovviamente sul conflitto. Vediamo il titolo. Ucraina, l'orrore di bucia, sciocca l'Occidente, Zelensky. Nonostante le atrocità e i colloqui con la Russia continuano. Andiamo a leggere insieme le immagini di decine di cadaveri nelle fosse comuni oppure per le strade intorno alla capitale ucraina. Dopo il ritiro russo hanno scioccato il mondo intero. Al quarantesimo giorno di conflitto e mentre si intensifica l'offensiva russa nel sud del paese con la città di Mikolaev colpita nella prima mattina da alcuni missili lanciati dall'esercito russo. Attacco missilistico anche a Ternopil, città dell'Ucraina occidentale, capoluogo della regione omonima. L'orrore della guerra, scrive Anza, mostra dunque il suo volto più crudo con il massacro dei civili appunto compiuto a bucia. Per Kiev è genocidio mentre Mosca nega. Lo dicevamo anche in apertura della nostra mattina insieme. La comunicazione tra i due paesi è sempre terreno di scontro e anche questo terreno di guerra. Per Kiev è genocidio per Mosca mentre Mosca nega. affermando che si tratta di una provocazione degli ucraini per bloccare i negoziati. È difficile dire come dopo tutto quello che è stato fatto possiamo avere qualsiasi tipo di negoziato con la Russia. Questo a livello personale, lo dicevamo prima, sono le parole del presidente Zelensky. Ma come presidente devo farlo perché ogni guerra deve finire. Intanto il premier Draghi afferma che la Russia dovrà rendere conto di quanto accaduto. L'ONU parla di possibili crimini di guerra. Macron ha detto di essere favorevole a che l'Unione Europea decida nuove sanzioni contro la Russia dopo che centinaia di corpi civili appunto sono stati trovati nella regione di Kiev. Ci sono indicazioni molto chiare di crimini di guerra a bucia. ed è più o meno stabilito che è stato l'esercito russo che era presente lì, ha aggiunto il presidente francese. Le notizie di esecuzioni sommarie lasciano gli occidentali inorriditi, scrive ancora Ansat, che rilanciano l'ipotesi di nuove più incisive sanzioni anche energetiche contro la Russia di Putin mentre aumenta il pressing per un'inchiesta indipendente. Stando alle parole della ministra della difesa tedesca Lambrecht, l'Unione Europea dovrebbe discutere lo stop all'importazione di gas russo, una mossa già avviata dalla Lituania, che è il primo paese dell'Unione Europea che ne ha bloccato l'import. Nelle prossime ore a Lussemburgo i ministri delle finanze discuteranno l'impatto economico della crisi. Infine, sempre da ansa.it, il tema dei corridoi umanitari, perché ovviamente migliaia e migliaia di cittadini ucraini hanno già lasciato il paese, ma ancora molti sono nelle loro città e hanno bisogno di allontanarsi per mettersi in sicurezza. Quindi anche oggi sono previsti i corridoi umanitari a Mariupol e a Zaporizia in auto, cioè privatamente, così come da alcune città della regione del Lugansk. Lo ha reso noto il capo del ministero della reintegrazione su Telegram. Intanto 15 autobus per l'evacuazione della nostra gente scrive e sono già partiti da Zaporizia per Mariupol. La delegazione della Croce Rossa prevede di proseguire per Mariupol con altri autobus. Insomma, questo è quanto si sta cercando di organizzare per mettere al sicuro queste persone. Tra poco vi ricordo che dovremo riuscire a collegarci con Odessa, con il direttore di Odessa Journal, Ugo Poletti, e avremo con lui un resoconto praticamente in tempo reale di quanto sta accadendo. Sempre per quanto riguarda ansa.it c'è poi un approfondimento e qui cambio argomento perché, come spesso diciamo, il conflitto in Ucraina si è inserito in un periodo già molto complicato per il mondo intero con i problemi legati ai contagi da Covid. Allora andiamo a leggere insieme, sempre da ansa.it, parte oggi una nuova indagine flash sulle varianti, analisi sui campioni raccolti sulle prime infezioni. Al via una nuova indagine flash per comprendere la circolazione delle varianti Covid in Italia. Una circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza stabilisce che i campioni raccolti oggi, corrispondenti a prime infezioni, saranno analizzate tramite un sequenziamento genomico. Proseguono così, spiega la circolare, le indagini rapide al fine di stimare la prevalenza delle varianti in Italia, quindi anche per capire che cosa sta accadendo su questo fronte. Tra l'altro, lo ricordiamo, ci siamo appena lasciati alle spalle il primo weekend con le nuove regole. Il 31 marzo scorso è venuto meno lo stato di emergenza, è cessato lo stato di emergenza. A partire dal primo aprile sono entrate in vigore delle nuove regole. Ovviamente sarà comunque un passaggio graduale da qui alle prossime settimane con una serie di step e di scadenze per quanto riguarda le misure da mettere in atto, sempre e comunque considerando che le curve epidemiologiche hanno comunque dato indicazione nelle ultime settimane di contagi di nuovo in aumento, anche se gli ospedali, lo abbiamo ribadito in più circostanze, stanno tenendo e stanno reggendo l'impatto. Si tratta di contagi che aumentano, ma non si riversa questo all'interno delle strutture ospedaliere, almeno per il momento. Ovviamente i dati sono costantemente monitorati e anche l'evoluzione. Per quanto riguarda invece un altro tema della giornata, un altro aspetto che merita di stare sotto il riflettore e che ovviamente tutti stiamo vivendo anche sulla nostra pelle e andando semplicemente a fare la spesa, dicevamo, ci sono le ripercussioni in termini economici di tutto quello che ci circonda a partire appunto dai due anni che ci lasciamo alle spalle per arrivare a questi primi 40 giorni di conflitto tra Russia e Ucraina. Allora, aiutandoci con il Corriere della Sera, con le pagine di economia del Corriere della Sera, andiamo anche a vedere che cosa sta accadendo per quanto riguarda i prezzi dei generi alimentari. Leggiamo insieme, caro prezzi, dalla verdura al burro, cosa è aumentato di più con la guerra? E allora leggiamo insieme, pasta, olio, burro e verdura sempre più cari. La crisi energetica e l'inflazione al 6,7%, cifra record dal 1998, pesano sul costo dei prodotti alimentari. Stando ai dati di Coldiretti, nella top 10 dei cibi più colpiti dai rincari, troviamo l'olio di semi che registra un più 23,3%. Seguono la verdura fresca, più 17,8% e il burro che segna più 17,4%. Non va bene neanche sul fronte della pasta, perché l'abbiamo sentito in questi giorni, anche tutta la filiera del grano è messa a dura prova. male la pasta, più 13%. Nel caso dell'olio di semi, il rialzo si lega anche al conflitto in Ucraina, dato che il paese è uno dei principali produttori e ha dovuto interrompere le spedizioni a causa della guerra. Leggendo in questi giorni, c'è anche già chi scrive che l'olio di semi si fa fatica un po' a trovarlo. Andiamo a vedere ancora, filiera in crisi, rincari a doppia cifra, continua col diretti anche per i frutti di mare, più 18%, la farina più 10%. E a seguire, nella graduatoria degli aumenti, c'è il segno più anche per la carne, la frutta fresca, il pesce fresco, i gelati. A chiudere la top 10, dalla quale esce invece il pane, forse in aumento del 5,8%. La crisi della filiera agroalimentare è legata a doppio nodo, alla crisi energetica e alle bollette alle stelle, tanto che, come spiega l'associazione di categoria, agricoltori e allevatori non riescono neanche a coprire i costi di produzione. E ancora c'è la denuncia di Coldiretti, più di un'azienda agricola su 10, la percentuale è dell'11%, è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell'attività. Ma circa un terzo del totale nazionale, il 30%, si trova comunque costretta in questo momento a lavorare in una condizione di reddito negativo per l'effetto dell'aumento dei costi di produzione. E questo che cosa vuol dire? Che si stanno trovando a lavorare praticamente in perdita, perché tutto quello che stanno spendendo per portare avanti le coltivazioni e le produzioni non rientra rispetto a quelli che sono poi i margini che hanno. Infatti andiamo a leggere insieme i costi per i produttori. Nelle campagne in particolare si registrano aumenti dei costi che vanno dal più 170% dei concimi al più 90% dei mangimi e addirittura per quanto riguarda il gasolio, il gasolio l'aumento è del 129%. Gli incrementi dei costi correnti sono di oltre 15.700 euro in media ma con punte anche di oltre 47.000 euro per le stalle da latte e picchi fino a 99.000 euro per gli allevamenti di polli secondo uno studio del CREA, il principale ente italiano di ricerca agroalimentare. Insomma, li vediamo i costi per la produzione e quanto sono aumentati, con addirittura aumenti a tre cifre per quanto riguarda i concimi e il gasolio e il 90% anche per i mangimi. Capite anche che cosa vuol dire questo aumento e come si riflette poi sui generi alimentari che tutti noi andiamo ad acquistare in questo momento. Ad essere più penalizzati con i maggiori incrementi percentuali dei costi correnti, continua ancora la col diretti, sono proprio le coltivazioni di cereali dal grano al mais che servono al paese a causa dell'esplosione della spesa di gasolio con cimi e sementi e l'incertezza sui prezzi di vendita con le quotazioni in balia delle speculazioni di mercato. Questo articolo appunto del Corriere della Sera ci ha messo nero su bianco quella che è la crescita della produzione e come si riflette poi nel carrello della spesa. Lo ricordiamo tra i prodotti che sono aumentati di più quelli di uso comune, olio, burro, pasta e verdure. E quindi insomma capite quanto è difficile poi per tutti riuscire a tenere i conti sotto controllo. Andiamo anche rapidamente all'aggiornamento per quanto riguarda il conflitto prima di andare in pubblicità abbiamo ancora qualche minuto e allora dicevamo sempre dal Corriere della Sera ci sono degli aggiornamenti proprio di pochi minuti fa andiamo a leggere insieme eravamo rimasti a Zelensky che appunto nonostante le atrocità spiega che continuano i negoziati e poi ancora il numero di soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione è aumentato a 18.300 lo hanno reso noto le forze armate di Kiev secondo appunto quanto riporta il Kiev Independent. Inoltre le truppe russe hanno perso finora 647 carri armati 1.844 veicoli blindati da combattimento 330 pezzi di artiglieria 107 lanciarazzi multipli 147 aerei 134 elicotteri 76 serbatoi cisterne di carburante e ancora più di 1.200 veicoli 1.273 per la precisione 7 navi e 92 droni questo è come dire la trasposizione in numeri di quello che è il conflitto per quanto riguarda le forze in campo le forze militari in campo ed è un bilancio che viene tracciato per quanto riguarda appunto il numero di soldati russi uccisi e i mezzi che sono stati fermati e poi ancora l'Unione Europea condanna con la massima fermezza le atrocità commesse dalle forze armate russe in una serie di città ucraine occupate che ora sono state liberate lo afferma l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Borrell in una nota l'Unione Europea continuerà a sostenere fermamente l'Ucraina e avanzerà con urgenza nell'elaborazione di ulteriori sanzioni contro la Russia e poi infine ci sono anche le parole del patriarca russo Kirill che torna a difendere la guerra in una celebrazione ieri con le forze armate ha detto siamo un paese che ama la pace e non abbiamo alcun desiderio di guerra ma amiamo la nostra patria e saremo pronti a difenderla nel modo in cui soltanto i russi possono difendere il loro paese per il patriarca di Mosca la maggior parte dei paesi del mondo è ora sotto l'influenza colossale di una forza che oggi purtroppo si oppone alla forza del nostro popolo queste sono le parole del patriarca russo che aggiunge allora dobbiamo essere anche molto forti quando dico noi intendo in primis le forze armate ma non solo tutto il nostro popolo oggi deve svegliarsi dunque parole molto forti anche quelle che arrivano dal patriarca Kirill noi ci prendiamo un istante di pausa tra pochissimo ci ritroviamo con il nostro collegamento da Milano ma anche con il collegamento Skype da Odessa a tra poco siamo di nuovo insieme con ETG più today allora vado subito a collegarmi con Odessa dove è già pronto lo vedo Ugo Poletti che è la direttore di Odessa Journal buongiorno grazie per essere con noi so che in questo momento insomma la sua testimonianza è importante la stanno chiamando un po' tutte le testate anche dall'Italia subito vorrei capire com'è la situazione come vi siete svegliati questa mattina dopo la giornata di ieri siamo svegliati con un ennesimo annuncio di un altro attacco missilistico ma probabilmente dalle informazioni che abbiamo ancora scarse si tratta di uno degli attacchi che abbiamo quasi quotidianamente di missili isolati su difese quindi non vengono annunciate né vittime né danni importanti nulla a che vedere con la scena infernale a cui ho assistito personalmente ieri dalla finestra di casa mia perché abito in prossimità di quella zona industriale che è stata pesantemente attecata dove è stata distrutta una raffineria la raffineria più grande di Odessa con missili navali russi ecco come va interpretato questo attacco alla raffineria? va interpretato da un punto di vista strategico è un altro di tanti attacchi che stiamo subendo sempre dall'aria che a mio modesto parere sono volti a tenere alta la pressione psicologica ma non hanno nessuno scopo militare da un punto di vista di preparazione di un attacco perché non c'è un nesso tra distruggere dei depositi di carburante e un'invasione dal mare non c'è proprio nessun collegamento da un punto di vista invece più di comunicazione visto che il ministero della difesa russo ha annunciato trionfalmente di avere distrutto questa infrastruttura che secondo loro forniva carburante all'esercito ucraino quindi questa a tutti gli effetti sembra una rappresaglia perché alcuni giorni fa come voi avrete già sicuramente raccontato il deposito di carburante di Bielgorod è stato attaccato è esploso e questo ha creato probabilmente una certa rabbia nei russi che si sono sentiti colpiti a casa loro questa quindi è con un'umiliazione allora questo sembra a tutti gli effetti una rappresaglia però c'è un lato se vogliamo ironico della vicenda questa raffineria era una raffineria sovietica che serviva a raffinare petrolio russo e che era inattiva da quasi dieci anni quindi di fatto è un falso obiettivo militare ma quella nube nera che si è levata e che probabilmente appunto lei ha visto anche dalla finestra di casa sua a cosa è riconducibile? c'era naturalmente quello è un impianto con addirittura una centralina elettrica all'interno quindi nei depositi probabilmente c'era ancora del petrolio quello ha bruciato e quello ha creato questa nube nera che c'è ancora adesso io la vedo in questo momento l'incendio è stato domato però era naturale che in quella infrastruttura qualcosa pregliesse fuoco e creasse delle fiamme che hanno superato i dieci piani di una casa per quanto riguarda il conflitto proprio qualche giorno fa anche in alcune delle sue interviste leggevo che sembrava quasi che le truppe russe stessero in qualche modo arretrando ieri invece una nuova giornata difficile di bombardamenti si è aperta un'altra fase della guerra sappiamo che Odessa è una città strategica perché è una città del sud che affaccia appunto sul Mar Nero questo sarebbe importante insomma un punto importante per la Russia certamente la città è importante ma se i russi potessero conquistare Odessa questo sarebbe un salto di qualità nella loro strategia perché immaginatevi avere tutta la costa ucraina con Odessa si chiude la costa praticamente non solo l'Ucraina perde l'accesso al mare ma la Russia diventa padrona di quel mare cioè la Mar Nero diventa quasi un lago russo perché il dirimpettaio turco non ha dall'altra parte dei porti rilevanti i turchi hanno il controllo degli stretti questo è strategico ma di fatto l'egemonia russa sarebbe tale tuttavia i russi non hanno sufficienti truppe per poter organizzare un attacco alla città di Odessa avrebbero fatto i primi giorni se avessero avuto i piani nei piani dell'attacco invece oggi sono in una situazione di grande affanno hanno grandissima difficoltà a trovare truppe fresche ecco perché fanno venire siriani o ceceni questo è un segno non di forza ma di debolezza per attaccare Odessa dovrebbero mettere un esercito nuovo per investirla ma non è la loro possibilità voi come state affrontando queste giornate queste ore dopo 40 giorni di conflitto per chi è rimasto com'è la situazione la situazione a parte questi spiacevoli attacchi che ci che ci fanno comunque sentire ancora il senso di oppressione di essere in un momento di guerra però in verità la città si sta sta riconciando a vivere perché per esempio il coprifuoco che ci ha tenuto di chiusi in casa dalle 5 durante i momenti più alti della tensione è stato alzato poi alle 7 e pochi giorni fa alle 9 e stanno riprendo dei ristoranti e stanno riprendo dei caffè quindi la guardia è alta le difese sono molto agguerrite io ho visto e vediamo ogni tanto la sera sparare i colpi in aria per cercare di buttare giù un missile o droni questa è la realtà a cui ci siamo quasi abituati però di fatto di giorno la gente passeggia può andare a fare due passi sul lungomare il lungomare di Odessa non è minato sono minate invece le spiagge fuori dalla città perché è un suicidio attaccare Odessa direttamente è troppo munita è troppo difficile da attaccare quindi i cittadini possono anche uscire per casa da casa tutti vanno a fare spesa sui mercati sui mercati si trova ancora tutto e una baliccia di vita sociale si sta riaffacciando ma a livello di popolazione come sono i numeri in questo momento quanti si sono allontanati da Odessa hanno lasciato l'Ucraina e invece in proporzione quanti sono rimasti ma allora la città non abbiamo statistiche precise però possiamo abbozzare che chi ha abbandonato veramente la città sarà intorno a un 10-20% della popolazione questo significa che la stragrande maggioranza dei cittadini di Odessa non ha voluto lasciare la città hanno voluto rimanere una questione anche di sfida al nemico per dimostrare che non lasciavano le loro case e per appoggiare la difesa perché capite che per i soldati difendere una città difendere un territorio se hai alle spalle le persone dà un senso un forza morale molto più alta che difendere un villaggio o una città completamente deserta abbandonata loro difendono persone non difendono edifici quindi la città è rimasta e addirittura c'è l'impressione che qualcuno cominci a tornare innanzitutto siamo pieni di giornalisti perché qui possono anche in televisione si è visto e quindi non c'è abbiamo fortunatamente uno scenario molto diverso dai poveri amici io ho degli amici a Chio degli amici a Kharkov che invece stanno vivendo una situazione drammatica ma lei stesso come mai ha scelto di continuare a restare in Ucraina al di là appunto del voler raccontare quindi di dare la sua testimonianza preziosa però parliamo di coraggio perché ha deciso di rimanere ma quando ami una città quando decidi di essere cittadino di questa città quando i tuoi amici le persone a cui vuoi bene soprattutto in famiglia a cominciare dalla mia compagna nessuno vuole lasciare la città tu devi fare una scelta o sei con loro o sei un turista che se domani se ne va via domani difficilmente tornerà in questa città o comunque con un senso di imbarazzo se non di vergogna quindi io è stata una scelta abbastanza veloce presa velocemente chiaramente con un calcolo del rischio personale che però stimato fosse non così elevato ecco se fossi stato un cittadino di Kharkov o di Kiev ci avrei pensato molto seriamente e non biasimo le persone che hanno lasciato quelle città qui mi sono subito conto che rischiavamo qualcosa ma non tantissimo e poi volevo stare con le persone a cui voglio bene con cui voglio fare grandi cose in questa città ultimo l'ha detto lei qui posso svolgere il mio lavoro vi sto informando dal campo non sarei interessante per voi se avessi lasciato Odessa e fossi andato da un'altra parte no questo è chiaro però poi a un certo punto al di là appunto del lavoro subentrano anche le motivazioni personali e ci ha spiegato anche quelle perfettamente un'ultima riflessione poi la lascio andare parliamo anche di un conflitto che ovviamente oltre che sul campo si sta giocando anche sul fronte economico e anche mi permetta di dire sul fronte della comunicazione vediamo che le notizie vengono rilanciate ovviamente c'è la propaganda che gioca un ruolo determinante c'è chi le legge in un modo chi le commenta in un altro tra Russia e Ucraina stesso anche solo su quelle drammatiche immagini di Buccia c'è chi ha detto che in realtà non è così ma allora in guerra la propaganda c'è sempre la verità è la prima vittima nelle guerre noi siamo fortunati perché viviamo in una posizione in cui possiamo accedere direttamente dalle fonti ucraine che evidentemente sono patriottiche e quindi tendono a fare come si fa sempre cioè esaltare i successi e diciamo chiudere un occhio sugli insuccessi e chiaramente parleremo del nemico però abbiamo la possibilità di confrontare queste informazioni con tutto quello che ci offre il mondo occidentale di media per cui questo ci aiuta inoltre questa guerra ha una profusione di fonti spontanee soprattutto tutti i cellulari ogni soldato sul campo ucraino filma fa video le persone quindi non è facile è quasi impossibile bloccare queste informazioni che arrivano spontanee testimoni oculari sul territorio e quindi tu hai una visione delle cose più attendibili riguardo all'immagine di Buccia lì dispiace ma la propaganda russa non può mentire lì ci sono dei morti sono tantissimi è impossibile che gli ucraini abbiano ucciso centinaia perché hanno trovato finalmente finora 400 qualcosa ma saranno molti di più centinaia di persone giustiziate tra l'altro in due settimane in cui c'era l'occupazione dei russi quindi veramente qui è come negare che Pol Pot abbia ucciso un terzo della popolazione della Cambogia e oltretutto la cosa drammatica è che i civili muoiono se si trovano in mezzo a delle sparatorie tra eserciti che combattono ma quando vengono uccisi sistematicamente giorno per giorno da un esercito occupante che è lì e che non sta più combattendo contro il nemico ma che pensa a depredare le case a riempire i blindati di tappeti di suppellettili di gioielli è chiaro che li stanno eliminando le persone perché si sono lanciati nella barbarie e questa è una cosa molto grave soprattutto perché ti dà anche il senso di un esercito che non combatte più per combattere ma è qui per dare si è imbestialito io mi domando gli ufficiali russi che hanno assistito a queste cose perché non hanno controllato i loro soldati e li hanno lasciati andare tra l'altro un ufficiale deve mantenere i soldati in efficienza di combattimento se il soldato riempie il blindato di tappeti non combatte più scappa a casa poterli portare in casa ecco questa è la situazione che abbiamo visto dalle immagini di Buccia la propaganda russa non riuscirà a coprire questa cosa il mondo occidentale è giustamente scandalizzato è una cosa orribile e già si vedremo insomma il fronte internazionale come già si è come dire posto e che conseguenze ci saranno rispetto a queste crudeli azioni direttore intanto grazie per essere stato con noi torneremo ad aggiornarci con lei per capire come evolvono le cose buona giornata e buon lavoro buon lavoro a voi e allora abbiamo sentito direttamente appunto dalle parole del direttore Poletti che è il direttore di Odessa Journal quelle che sono le ore che si stanno vivendo quelle che sono le giornate ormai dall'inizio del conflitto e come sta andando avanti questa è la testimonianza in diretta appunto da Odessa adesso mi ricollego invece con Milano dove c'è Caterina Zita Sì Michela con noi l'assessore Claudio Maria Terzi alle infrastrutture alla mobilità sostenibile noi cambiamo diciamo drasticamente argomento e ritorniamo ai temi di direzione nord che verranno trattati questa mattina alcuni sono già iniziate le discussioni con il primo panel parleremo anzi parlerà l'assessore di Smart Mobility quindi di mobilità sostenibile e della prossima mobilità che ci attende che attende anche l'immaginazione si può dire perché non si sa in che direzione andrà ma sicuramente andrà in una direzione più sostenibile beh assolutamente sì sostenibilità innovazione regione Lombardia si sta spendendo da tempo per la diffusione della mobilità elettrica sia attraverso per esempio contributi agli enti pubblici per diffondere le postazioni di ricarica che per esempio sostenendo i progetti di Evai con la diffusione appunto del car sharing elettrico pensate 300 postazioni da poco tempo da qualche settimana anche a Milano 90 comuni 45 stazioni e 3 aeroporti quindi pensate quanto sia possibile avvicinarsi a questo tipo di servizio stiamo investendo molto sullo studio anche di carburanti alternativi è un progetto che stiamo portando avanti con il Politecnico di Milano l'obiettivo è di capire quali carburanti alternativi si potranno sviluppare dove per che tipo di domanda quindi insomma a 360 gradi e addirittura anche lo sviluppo di un lavoro con il cluster dell'aerospaziale per la mobilità aerea insomma anche per coprire le brevi ovviamente qualche decina di chilometro ovviamente distanze con gli aerei o con gli elicotteri o con i droni addirittura e allora le faccio altre due domande perché lei ha parlato ovviamente di nuova mobilità di mobilità smart ha parlato ha fatto un esempio di Milano ma come va negli altri comuni nelle province lombarde e soprattutto le chiedo anche in un momento di crisi economica di crisi energetica e di aumento generalizzato dei prezzi come si inserisce questa transizione e quanto è un freno questo momento di crisi alla transizione beh allora la transizione rischia ovviamente di essere messa in discussione da quelle che sono appunto le vicende che vanno al di fuori della Lombardia e anche dell'Italia in realtà la situazione internazionale attuale ha messo in evidenza un nervo scoperto che è quello dell'autosufficienza energetica ovviamente siamo ben lontani dall'autosufficienza energetica non solo in regione Lombardia ma in generale in Italia considerate che in regione Lombardia abbiamo il più grande patrimonio in termini di produzione di energia dall'idroelettrico quindi comunque siamo già naturalmente spostati verso la sostenibilità la mobilità elettrica è diffusa bene seppur ovviamente con qualche sensibilità diversa quindi in realtà sta molto all'attivazione delle pubbliche amministrazioni o meglio quelle con cui interagiamo noi devono necessariamente essere le pubbliche amministrazioni però come vi dicevo prima 300 postazioni stanno qua in tutta la Lombardia soprattutto nei piccoli e medi comuni perché l'idea è di portare appunto la mobilità condivisa elettrica dove normalmente il privato che offre questo tipo di servizio non arriva stiamo facendo molto e cerchiamo di fare molto come regione Lombardia anche per stare accanto alle nostre imprese ai nostri cittadini ovviamente gli interventi per esempio di calmirazione dei prezzi o di scontistica in particolare sulle accise come abbiamo visto dieci giorni fa sono di competenza del governo nazionale d'altra parte noi siamo convinti di aver fatto la nostra parte già investendo molto nel pubblico e quindi di conseguenza nelle imprese con il piano Lombardia quindi mettendo a disposizione 5 miliardi di investimento che fanno lavorare faranno lavorare le nostre imprese quindi gli diamo l'alternativa all'altra parte dell'altro elemento del puzzle che è appunto la capacità e la possibilità di lavorare allora io ringrazio l'assessore Claudio Maria Terzi la lascio al suo panel che sarà appunto sulla smart mobility quindi si ritratteranno in condivisione anche questi temi che riguarderanno la Lombardia come ha detto lei e non solo la ringrazio tra poco torniamo a Milano tra pochissimo intanto volevo darvi un aggiornamento sul tema viabilità ogni giorno apriamo la nostra finestra info viabilità in collaborazione con ANAS allora andiamo a vedere insieme gli aggiornamenti e allora partiamo come sempre dalla provincia di Como perché la prima assinalazione è appunto quella della statale Regina chiusa il traffico dal chilometro 19.4 al 19.9 in entrambi i sensi di marcia per la realizzazione dello svincolo di colonno nell'ambito della variante della Tremezzina una chiusura che si protrarrà ancora per qualche giorno poi dal 5.9 anzi in realtà il 5.9 di aprile è già domani quindi fino a domani e poi domani pomeriggio alle 17.00 la strada riaprirà rimanendo sulla statale 3.40 Regina ANAS segnala anche un senso unico alternato a causa di lavori all'incrocio con Brienno poi ci spostiamo sulla strada statale 45 Bis Gardesana Occidentale dove fino al 13.9 di aprile sarà chiusa la galleria Monte Covolo in località Roè Volciano nella fascia oraria dalle 21 alle 6 del mattino esclusi giorni festivi e prefestivi in entrambi i sensi di marcia la circolazione viene deviata sulla viabilità comunale e poi ancora la statale 469 Sebina Occidentale in Lombardia fino al 8 di aprile sulla strada statale appunto Sebina Occidentale nella fascia oraria diurna dalle 7 alle 17 sarà attivo un senso unico alternato in galleria Portirone esclusi giorni festivi e prefestivi e poi ancora la strada statale 39 del passo di Aprica traffico rallentato a causa del fondo stradale dissestato tra l'incrocio di Tresenda statale 38 dello Stelvio e prima dell'incrocio Cortenedolo l'ultima segnalazione invece riguarda la strada statale 12 della Betone del Brennero traffico rallentato a causa di lavori di manutenzione prima dell'incrocio di Buttapietra e dopo l'incrocio con la provinciale 80 questi dunque gli aggiornamenti ma vi ricordo che è sempre possibile consultare il sito stradeanas.it oppure contattare il numero di pronto ANAS lo vedete in sovrimpressione 800-841-148 e ora invece parliamo di nuovo di Covid e di contagi perché è inevitabile anche fornire un aggiornamento su questo fronte allora andiamo sul nostro sito espansionetv.it per leggere insieme l'ultimo report che arriva dalla Lombardia quindi fondamentalmente sono i numeri di ieri in Lombardia il tasso di positività nella giornata di domenica era leggermente in calo con 52.432 tamponi effettuati di 6.371 il numero di nuovi positivi al coronavirus il tasso di positività scende al 12,1% mentre nella giornata di sabato era al 13,1% il numero dei ricoverati nelle terapie intensive è in lieve aumento 4 pazienti in più in totale si trovano ricoverati nelle terapie intensive 44 pazienti così come negli altri reparti per la cura del covid 3 pazienti in più per un totale di 1.081 ricoveri il numero dei decessi è di 35 e per un totale insomma di numeri in continua a crescita dall'inizio della pandemia per quanto riguarda le province a Milano sono stati segnalati 21.053 nuovi casi nella giornata di ieri a Bergamo 394 a Brescia il numero sale a 754 nel Comasco ieri i casi erano 387 l'unica provincia con numeri a due cifre diciamo con la crescita a due cifre era la provincia di Sondrio con 88 nuovi positivi c'è anche la dichiarazione del governatore della Lombardia Attilio Fontana con la fine dello stato di emergenza per il covid continua il graduale percorso di ritorno verso la normalità lo ha detto nei giorni scorsi tramonta il sistema dei colori il green pass non sarà più necessario all'aperto per l'ingresso in pubblici uffici negozi banche alle poste dal tabaccaio sui mezzi pubblici e poi è terminato lo abbiamo detto già più volte anche il lavoro del generale Francesco Paolo Figliuolo che il governatore Fontana ha ringraziato e proprio di covid e soprattutto di campagna vaccinale sapete che si sta discutendo molto sulla quarta dose di vaccino allora andiamo a leggere insieme quarta dose di vaccino per tutti gli over 80 e la nuova sfida è fermare il long covid c'è un'intervista al professore Alberto Mantovani che è il direttore scientifico dell'Istituto Humanitas di Milano e presidente della fondazione Humanitas per la ricerca e allora andiamo a leggere insieme chi dovrebbe fare la quarta dose di vaccino contro il covid la risposta credo sia opportuna oltre che per i soggetti fragili e vulnerabili di qualsiasi età per chiunque abbia più di 80 anni e sarebbe auspicabile che in Europa si operasse una scelta unica e condivisa in merito evitando che ogni paese poi stabilisca età diverse ha risposto appunto il professor Mantovani la quarta dose per altri vaccini non è affatto una novità per esempio quella contro l'epatite B la si fa di routine a soggetti immunocompromessi come quelli in insufficienza renale grave e ancora quali sono i dati a disposizione per la quarta dose di vaccino contro il covid è ancora Mantovani che risponde gli studi su cui possiamo basarci fino a questo momento sono essenzialmente due entrambi condotti in Israele il primo su un numero piccolo di persone indica che la risposta immunitaria viene restaurata al livello in cui era nelle prime settimane dopo la terza dose il secondo su oltre un milione di persone suggerisce che la quarta dose in chi ha più di 60 anni è sicura e riduce il rischio di ospedalizzazione e malattia grave c'è la preoccupazione che gli effetti della quarta dose possano essere di breve durata tuttavia va considerata leggiamo sempre dal Corriere l'efficienza del sistema immunitario nella difenderci dalle infezioni con il passare degli anni per fare un paragone leggiamo ancora c'è chi a 75 o 80 anni percorre ancora sentieri impegnativi in montagna senza grossi problemi e chi alla stessa età deve camminare con il bastone in casa allo stesso modo il nostro apparato difensivo sono ancora le parole del professore può essere più o meno in forma quindi penso che la somministrazione sopra gli 80 anni in generale sia ragionevole perché diversi ultraottantenni possono essere assimilabili agli immunocompromessi che seguiamo e studiamo ovviamente in questa fase mentre non la proporrei per persone complessivamente sane già a 60 anni c'è un'altra domanda che viene posta poi al professore ed è la domanda che poi anche le persone comuni insomma si stanno facendo cioè non sarebbe meglio aspettare l'autunno sperando che arrivino anche vaccini aggiornati contro le nuove varianti il professore risponde direi di no per i soggetti fragili sebbene sia ottimista sull'arrivo di nuovi preparati piuttosto in autunno sarà opportuno ribadire che oltre al vaccino per il covid andrà fatto anche quello anti-influenzale ci sono dati molto convincenti del Regno Unito che dimostrano come la coesistenza delle due infezioni aumenti moltissimo il rischio di malattia grave o gravissima in ogni caso il problema più urgente ancora più della quarta dose è quello relativo ai milioni di persone che in Italia ancora non si sono sottoposti alla terza ed è questa e questo preoccupa anche in chiave di long covid quindi sugli effetti della malattia nel tempo insomma se poi volete approfondire l'ampia intervista e disposizione appunto sulle pagine del Corriere della Sera online ho veramente un minuto e mezzo prima di chiudere vorrei però tornare a Milano da Caterina Zita sì Michele anche noi chiudiamo il collegamento e vi salutiamo da Milano da direzione nord dove potete vedere alle 11.30 quindi adesso inizierà un nuovo panel un nuovo momento di discussione Smart Mobility ne abbiamo parlato anche noi con l'assessore Claudia Maria Terzi che ci ha un po' spiegato qual è lo scenario che attende la Lombardia e non solo in teme appunto di mobilità sostenibile e di nuova mobilità ha parlato di elettrico ha parlato di nuovi punti di ricarica e quindi della spinta che dalla Lombardia a tutta l'Italia arriva per appunto raggiungere quello che è l'obiettivo di una nuova mobilità sostenibile poi sono tanti altri i temi di cui si è parlato oggi a direzione nord come con il vice ministro Alessandro Morelli appunto infrastrutture infrastrutture che sono da potenziare anche in vista delle Olimpiadi di 2026 da Milano è tutto grazie Caterina chiudiamo il collegamento con Milano ma degli aggiornamenti che arrivano proprio dalle pagine di Milano del Corriere aggiornamenti di cronaca partiamo dall'Ecchese notte al gelo di 5 milanesi bloccati in cima Monte Due Mani sorpresi da neve e gelo imbiancato anche il Sacromonte di Varese è stato in effetti quello appena passato un weekend che ci ha fatto ripiombare qui nelle zone della provincia di Como della provincia di Varese nel Lecchese più in generale in Lombardia in inverno e poi ancora Malpensa due aerei si toccano in pista durante le manovre di parcheggio l'incidente questa mattina alle 7 e 15 coinvolti gli aerei di EasyJet e Data indagini sulle procedure di parcheggio degli aeromobili questi dunque gli aggiornamenti che arrivano anche dalle pagine locali a partire appunto dalla scalata sopra Ballabio nel Lecchese con questi 5 escursionisti ventenni che hanno proseguito fino alla cresta neve e freddo in quota però hanno reso impossibile la discesa questa mattina è scattata la richiesta di aiuto con l'intervento poi del soccorso alpino siamo arrivati al termine anche di questa nostra mattina insieme vi ricordo alle 12.30 la prima edizione del nostro telegiornale mentre ETG P2DAY torna come sempre domani mattina alle 10.30 una buona giornata grazie a tutti a tutti Grazie a tutti.